Nel 2010 il progetto Mona Lisa ha posto l'attenzione sul concetto di gestione del traffico marittimo, offrendo soluzioni intelligenti ad una parte sempre più problematica della catena dei trasporti. Grazie alla sua rete di scambio di informazioni, l'industria del trasporto marittimo può finalmente diventare non solo più sicura, ma anche più efficiente, proficua e rispettosa dell'ambiente. Con le sue quattro azioni, Mona Lisa 2.0 rafforzerà, renderà più sicuro e ottimizzerà ogni anello della catena, riducendo al contempo il peso amministrativo del settore marittimo. L'uso delle tecnologie e dell'informazione è ormai molto diffuso sulle navi di oggi. Fin qui tutto bene, ma consentendo ai sistemi esistenti di condividere i propri dati, il numero delle fonti di informazione sul ponte può essere integrato e ridotto, semplificando così la visione generale. Le soluzioni adottate per il trasporto aereo ridurranno i tempi di elaborazione di uno standard mondiale, minimizzando così gli investimenti necessari. Lo snellimento delle procedure amministrative è uno degli obiettivi principali di Mona Lisa 2.0. Lo scambio di informazioni nell'ambito di un'internet marittima consentirà a tutti gli attori della catena del trasporto marittimo di migliorare nettamente i propri interventi. I porti riceveranno dati aggiornati su tutte le navi e potranno pianificare di conseguenza. Allo stesso modo, ogni capitano riceverà informazioni relative alla disponibilità nei porti e potrà così ottimizzare la propria rotta. Le merci si muoveranno più rapidamente attraverso la catena di trasporto. Riducendo il lavoro amministrativo a bordo, si migliorerà l'attenzione agli aspetti relativi alla navigazione. La gestione del traffico marittimo è un concetto nuovo per il mare e trae ispirazione dal programma CESAR del settore aereo. È prevista infatti una fase di definizione e di studio condotta in collaborazione con esperti del programma CESAR e l'elaborazione di un piano direttivo per lo sviluppo e l'implementazione dell'STM. Partendo dai principi e dall'esperienza della gestione del traffico aereo, li adotteremo, ci adegueremo ad essi e ne faremo tesoro, riducendo al minimo l'onere dell'elaborazione di rapporti per i capitani, grazie all'impiego delle nuove ICT che incrementeranno la sicurezza della navigazione. Con la sicurezza basata sulle nuove tecnologie, Mona Lisa fornirà un valido supporto anticollisione, informando il capitano sui movimenti delle navi che si trovano nelle vicinanze. Suggerendo rotte più sicure e intelligenti, la congestione del traffico verrà largamente ridotta. L'uso innovativo delle tecnologie di posizionamento interno consentirà di rintracciare e guidare i passeggeri, ottimizzando così le evacuazioni di massa di una nave in situazioni di emergenza. Verranno elaborate procedure di interoperabilità fra terra e mare, per una gestione più sicura. Aiutando le navi a risparmiare su carburante costi, percorrendo rotte più brevi, adattando la propria velocità alla disponibilità dei servizi dei porti, assisteremo a un netto miglioramento delle prestazioni ambientali. Avremo così rotte più ecologiche, elaborate sulla base dei dati ambientali giornalieri, che aiuteranno le navi ad evitare aree sensibili. Verranno elaborati e testati programmi di formazione unici, che affronteranno i vari aspetti della sicurezza marittima, quali la valutazione dei rischi a tutti i livelli, nave, porto e costa. Aggiornando così le qualifiche del personale coinvolto in ricerca e soccorso, evacuazione e piani di emergenza dei porti. Monalisa 2.0 è la piattaforma di lancio di un mondo marittimo più intelligente, che integrerà e metterà al sicuro una volta per tutte la catena di informazioni fra la flotta in mare e le operazioni a terra. I problemi possono essere difficili, le soluzioni no. Gestione del traffico marittimo. Grazie. 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 Grazie.